The Svelte Project, allora, boh, quindi abbiamo questo progetto, poi, 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 qui c'è la doc, npm insta mi pare che l'ho fatto già, c'è Node Modules, npm run dev, vediamo se esplode, ok, perfetto, ottimo, ok, funziona bene, bello. Allora, vediamo un po' qua cosa succede, va, quindi dovrebbe già funzionare, no, insomma, alla fin fine, poi npm run build to create production ready, però il problema è che io mi sono formato già qui, adesso si incazza di nuovo, vediamo un po', questo è un potevo togliere. Secondo me è una presa per il culo, nel senso che quella pagina di, impossibile trovare la pagina localhost, quella secondo me è, è la pagina di Svelte. Meglio di prima, però, eh, secondo me funziona, no. Ponto. Ma perché? Ma come si fa a fermarsi dopo una riga? Ok, c'è una riga, non c'è neanche la riga scritta. Una riga di terminale. Oh, se qualcuno, se qualcuno ha capito qual è l'errore, io non l'ho capito. Se lo facevamo prima, potevamo risparmiarci la serata di due ore a studiarci Svelte, la fine fine. Allora, no, dai, un attimino dobbiamo risolverlo, però, a parte, metti due cazzo di, due tab a cazzo che poi funziona. Ah, faccio, faccio due tab così, invio, magari funziona adesso. No, a parte gli scherzi, non so che cosa, cioè, non so cosa fare neanche. E quindi leggo il get started, npm install, npm run dev, e grazie, qua dovrebbe andare. Cioè, non, aspetta, però, versione di Node. Ah. La 14.15, adesso, funzionerà? La 14.15, proviamo a mettere, non lo so, un, dovrei installarmi il progetto, secondo voi? Se metto la 12, ma no, ma dai, non può funzionare quella 12. Devo raffirare. È l'unica. Io l'ho fatto e funzionava, ma, non so, cosa dire, non so anch'io, infatti, mi sembra un po' strano. Posso cambiare porta? No, ma dai, cioè, è ovvio che sarà un problema mio, ride quell'altro. Ehm, boh, insomma. Non parte neanche. Cosa? Ma te parte? Hai provato tu? No, non l'ho provato, però, bello svelto, non parte neanche, cazzo. No, ma dai, allora, non mi sembra che non parte quella, almeno, cioè, cazzo, vieni installare, le low world funziona, cioè, è una candid camera? Sì, più o meno. E, no, e quindi, cioè, voglio dire, non so cosa fare. Sto pronto a pensare, eh, questo va rinominato in Yes, but does it run. Cosa, cosa, stai facendo così? L'issue va rinominato, va rinominato assolutamente. Deve essere Yes, but does it run. Che cazzo non parte neanche. No, no, non so, boh. Non so qualcosa a cercare, e comunque qualcuno l'ha provato, mi ha detto. A seconda, per fare il primo avvio, mai successo. Ma in realtà il primo avvio, mai successo, veramente, neanche a me.